Console contro PC, uno dei motivi per cui te amici gamer si litiga più spesso, soprattutto se ci sono amici che utilizzano una o l'altra piattaforma. Ma oggi vediamo, essendo un canale di hardware, 5 motivi per cui doveste scegliere un PC da gaming. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su SD Hardware, sono Davide, e oggi vediamo 5 motivi per cui doveste scegliere un PC da gaming. Infatti, se siamo interessati a giocare, abbiamo due diverse strade, o comprare una console, o comprare un PC da gaming. Le due cose ovviamente non sono la stessa. Diciamo che tutte e due servono per giocare, ma abbiamo punti di vista diversi. Senza iniziare a parlare di queste differenze direttamente, passiamo direttamente ai 5 motivi per cui doveste scegliere un PC da gaming. Il primo motivo per cui doveste scegliere un PC da gaming è la sua funzionalità. Questo infatti, in confronto alla console che serve soltanto per giocare, con il PC potete fare praticamente tutto. A partire da montaggio video, a interi foto, potete vedere film, potete giocare appunto, ma oltretutto potrebbe essere utile per smart working, potrebbe essere utile per vedere video lezioni, quindi nel caso in cui andate all'università, nel caso in cui andate a scuola, soprattutto in questa periodo di pandemia, sicuramente il PC da gaming vince sulla console. Secondo motivo per cui un PC da gaming è meglio di una console, sicuramente sono le prestazioni. Per quanto riguarda le prestazioni, molti diranno, beh, semplice, la console costa 500 euro, il PC da gaming costa 1200, ovviamente le prestazioni del PC sono migliori. In realtà non è così, perché il prezzo delle prestazioni della console è basata soltanto sul videogioco. Per quanto riguarda il computer, in realtà ci puoi fare anche altre cose. Quindi non venitemi a dire questa cosa, anche perché dubito che un ragazzo che si compra una console non abbia in casa un altro PC. Magari un PC semplice da 300 euro che ha comprato soltanto per fare smart working o magari per seguire le lezioni a scuola, magari per altri motivi più ignoti. Se teniamo in considerazione il costo di quel computer più il costo della console, hai un PC da gaming. Questo è un primo discorso per cui le prestazioni in realtà sì, costano di più, ma è legato alle funzionalità. Un secondo discorso è che un PC da gaming, nelle sue prestazioni, è sempre nettamente in vantaggio rispetto a un console, anche a parità di costo. Infatti molti dicono, eh, ma la console ci permette di giocare in 4K, il PC per giocare in 4K devo spendere, bah, 1500 euro per una 3080. Beh, sfatiamo questo mito, le console non girano in 4K. Semplicemente utilizzano delle tecniche di upscaling in maniera tale che mantengono prestazioni sempre elevate, ma abbassando la risoluzione, appunto, del gioco stesso. Cosa che è fattibilissima anche su un PC. Motivo per cui un PC da 600 euro, che all'incirca è praticamente lo stesso budget di una console, prendiamo per esempio un computer da 600 euro e una console da 500, mettiamo in tutte e due, la console ovviamente già lo fa, mettiamo, attiviamo l'upscaling anche solo sul computer da 600 euro, vedrete che anche il computer potrà giocare in 4K. E sicuramente con dettagli migliori rispetto alla console. Ovviamente ad oggi, vista la situazione della disponibilità dell'hardware, fare un PC da gaming soprattutto nuovo a 600 euro è molto complesso. Però, come abbiamo visto magari in un video precedente, in cui abbiamo dato consigli sull'acquisto magari di componenti usati, è molto semplice arrivare a questo prezzo e avere prestazioni comunque superiori a una console. Terzo motivo per cui scegli un PC da gaming, il costo dei giochi. Facciamo un esempio lampante, Call of Duty Black Ops Cold War, uscito a novembre, è uscito su Battle.net, che appunto è la piattaforma dove si scaricano i giochi, alcuni dei giochi su PC, a 59,90 euro al day one. Per quanto riguarda PS5 l'abbiamo trovato a 79 euro, e per quanto riguarda PS4 a 69. Quindi, acquistando i giochi direttamente sulla piattaforma originale, vediamo che i costi sono nettamente più bassi. Per quanto riguarda invece il PC, abbiamo anche un'altra strada per risparmiare sul costo dei giochi, ovvero acquistare delle key da attivare poi in un secondo momento sulle piattaforme, come Steam, appunto Battle.net, Uplay, e tutte le varie piattaforme che possono esistere per acquistare i giochi. Queste key ovviamente sono vendute a siti terzi, per esempio, Instant Gaming o The All Key Shop, che è proprio un trova prezzi dei siti in cui vendono le key, e si riescono a risparmiare ben anche più del 50% su un gioco, che non è davvero poco. Se consideriamo questo al costo della console e il costo del PC, ovviamente, se andiamo a fare le somme su tre anni di gaming, sicuramente ti è costato molto di più comprare giochi su una console che su un PC. Quarto punto, magari non utile come gli altri, è la retrocompatibilità. Vi faccio l'esempio. Quanti di voi magari è venuta voglia di giocare un gioco retro? Faccio il mio esempio personale, per esempio un InfoSpeed Underground 2. Beh, se c'hai una PS3, una PS4, hai venduto magari le vecchie console per acquistare la nuova, questo non puoi farlo. Mentre sul PC, praticamente, la retrocompatibilità è fino agli anni 90. Cioè, nel senso, qualsiasi gioco tu scarichi, sicuramente il tuo computer lo girerà. Quinto motivo per cui scegli un PC, sicuramente, è il costo dell'abbonamento online, ovvero pari a zero. Non c'è un abbonamento per giocare online sul PC. Basta avere il gioco, avere una rete e poi giocare online. Per quanto riguarda console, ovviamente, invece, abbiamo un abbonamento di 60€, 50€, se hai acquistato magari direttamente la key online, magari si paga una quarantina. Comunque, hai un costo fisso ogni anno che devi tenere per, appunto, acquistare online. Questo perché, ovviamente, le console, come sappiamo, sono vendute a un prezzo molto inferiore rispetto al vero costo di produzione della console stessa. E considerando che quella console deve durare almeno 4-5 anni, sicuramente, in qualche modo, devono rientrarci in questi soldi. Ovviamente, cercano il modo di arrondare, come abbiamo detto prima, alzano il costo dei giochi, ma anche questi abbonamenti che ti costringono a fare se vuoi giocare online. Su questo, 100% di vittoria per quanto riguarda il PC. Questi sono i 5 motivi. Diciamo che avete un quadro generale con questi 5 punti, perché sono davvero, secondo noi, i punti fondamentali per cui scegliere un PC da gaming. Altre sono, per esempio, collegati ad alcuni motivi di cui abbiamo parlato, come per esempio le prestazioni. Per esempio, collegato alle prestazioni, c'è il discorso in cui un PC può essere aggiornato quando è come vogliamo. Mentre una console ce la diamo così per 8 anni di vita, e purtroppo le prestazioni, quando arrivi a un certo momento, ovviamente decadono. Vediamo come è successo per la PS3, come è successo per la PS4, ad esempio l'unpunt cyberpunk. Quindi, di per sé, il PC vince da questo punto di vista, visto che, oltretutto, le sue prestazioni sono aggiornabili. Basta cambiare un componente, cambia la scheda video, cambia il processore, cambia la scheda madre. No, la scheda madre non impatta sulle prestazioni. Bene, 5 motivi e mezzo ve l'abbiamo dati. Quindi, vedete voi se scegliere uno o l'altro, ma per quanto riguarda, ovviamente siamo un po' di parte, e diciamo che il PC da gaming vince, almeno per questi motivi. C'è da dire, ovviamente, che il PC da gaming, almeno in un primo momento, potrebbe avere dei costi maggiori, come abbiamo detto, ma fate molte più cose con un PC rispetto ad una console. E soprattutto, negli anni, non comprerai di nuovo un PC da gaming da zero, ma utilizzerai vecchi componenti e aggiornarai quelli che ti servirà di aggiornare. Quindi, abbassando notevolmente i costi nel suo arco di vita. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia stato chiaro più o meno quasi tutti gli argomenti, toccati molto velocemente, ma penso è stato molto indicativo i vari motivi che abbiamo dato. Quindi, vi do un bel saluto. Credo che faccia anche lo stesso del piccolo Baby Yodo. Vi saluto anche il piccolo Baby Yodo. Ci vediamo al prossimo video.